La diocesi di Andria attende il suo nuovo vescovo per l'arrivo di Monsignor Luigi Manzi. Domani è una giornata davvero impegnativa e importante. Ecco il programma che Tere De On seguirà in diretta. Luca Cecirielli. Domani, domenica 3 aprile, Monsignor Luigi Manzi prenderà possesso della diocesi di Andria. Lo scorso 12 marzo la solenne celebrazione con la quale è stato ordinato vescovo. Durante quell'evento tanti momenti emozionanti. La presentazione dell'anello nato dalla fusione delle fedi nuziali dei genitori e il messaggio che ricordano l'idea di un matrimonio tra popolo e pastore. La cerimonia, ricordiamo, fu presieduta da Monsignor Nunzio Galantino, segretario della Conferenza Episcopale Italiana, con Monsignor Adriano Bernardini e Monsignor Raffaele Calabro. La diocesi di Cerignola, Ascoli Satriano e di Andria, Minervino Canosa, parteciparono con intensa preghiera alla cerimonia durata oltre due ore. Nell'anno giubilare della misericordia, Monsignor Galantino, durante l'Omelia, ricordò come non fosse casuale l'ordinazione vescovile. La missione da intraprendere è quella di partire dagli ultimi, da chi soffre e da chi ne ha bisogno per adempiere al meglio alla missione di pastore della chiesa, disse il prelato. Cari fratelli di Andria, Dio ci ha scelti attraverso Papa Francesco, perché fossimo uniti. Spero che possiamo ben condividere la nostra unione. La chiesa di Andria è mia sposa, concluse invece Monsignor Manzi, che proprio nella cattedrale di Cerignola raccontò d'aver ricevuto il battesimo. Spero che il Signore mi conceda di non fare troppi danni, disse scherzando. Intanto domani Teledeon seguirà l'arrivo in città di Monsignor Manzi, che alle 16 sarà già al santuario della Madonna dei Miracoli. Alle 17, poi, la diretta della concelebrazione eucaristica dal Palazzetto dello Sport e in serata l'arrivo in cattedrale. Oltre che sul canale 18 e HD 518, è possibile seguire l'evento in streaming sul sito internet www.teledeon.it.